ancora in alta val curone e tentiamo un giro che è composto da epitrail bandito satisfaction in tutto saranno 2050 metri di dislivello 48 chilometri vediamo che giro sarà ciao raga grazie 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 via bandito 3 grazie 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 per poi scendere dalla Satisfaccia ok, a dopo spettacolo che entrata nel bosco ecco Questa è la Pierfan Rifugio Orsi, dovrebbe essere una discesina abbastanza tranquillita. Mangiabevi nel bosco, bello! Più mangia che bevi, che degli strappetti! E che cos'è? Uno spettacolo! Adesso siamo sul sentiero che dal Rifugio Orsi porta alla partenza della Satisfaction. Bellissimo sentiero in mezzo al bosco. Via che sentierini ragazzi! Sì sì, mi fermo, mi fermo io! Buongiorno! La Pierfan, calandola la Pierfan. La siamo a Caldirola. Andiamo a vederla. La Pierfan Freerite. Questa è. Ok. Ok. E' questa. Pista No Bike Park. Questa dovrebbe da Ricco. Questa è proprio la Satisfaction. Penso l'inizio. Ok. Via. Questa. Pista Bike. Pista Bike. Ok. Questa è. Bello qua! Questo è un bel sacco. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo ritornati sulla Via del Sale E adesso facciamo il pezzo di ritorno per poi prendere l'epitrail e scendere a selva piano Siamo sulla Via del Sale Panorama stupendo sia a destra che a sinistra Grippa eccezionale ragazzi Appena appena umido Che figata Grazie a tutti Questa è la parte più bella Questo è il parco giochi Yuhuuu Grazie a tutti 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 Ghiero finito Grazie a tutti